Siamo! 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 Mickey! Seconda! Io chiedo sempre i consigli, va! Così almeno se sbaglio è proprio a loro! ho messo la terza e infatti mi sono fermato la terza, la seconda inerzia dovremmo essere a ristoro oramai o no? e allora, e allora, e allora e allora Sì 20 capitolo 20, porca, porca Comunque io sono in riserva Io comunque sono in riserva E qui dovremmo esserci Ok 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 Ok